Il 21 di marzo non è soltanto il primo giorno di primavera, ma dal 1999 per volontà dell'UNESCO è stata istituita la giornata mondiale della poesia, alla quale io ho adirito fin dall'anno 2000. Per 21 anni ininterrottamente in questo giorno ho celebrato la poesia con pubbliche letture in diversi luoghi e in diversi contesti, con monografie di singoli autori o proponendo un'antologia di diversi poeti, soprattutto del Novecento Mondiale, sempre riservando in questo vastissimo panorama una vetrina anche a poetesse e poeti che hanno scritto in Algierese. Già dallo scorso anno non è stato possibile, come pure quest'anno, una pubblica lettura, programmare una pubblica lettura, un reading come taluni usano dire. E da casa mia festeggio comunque questa giornata, che non dimentico di celebrare comunque quotidianamente con letture che propongo e continuerò a proporre sui social. Per l'occasione ripropongo la lettura di un brano di Titos Patricios, che è un poeta contemporaneo greco di quasi 93 anni. I versi sono come i figli, crescono nelle viscere con rumori segreti, soffrono dentro di te, si ammalano, poi inaspettatamente crescono, un giorno ti si rivoltano contro, contro di te che hai dato loro la vita, perché poi se ne vanno per sempre e non sono più soltanto tuoi. Titos Patricios